La mostra si chiama colore dispositivo perché in qualche modo cerca di far trasparire questa trasformazione del colore da puro colore, da pigmento, ha in qualche modo un dispositivo, un tramite per delle immagini, dei messaggi, dei meccanismi e quindi cerca di far venire fuori anche in maniera temporale questa trasformazione. La mostra si articola come modo di parlare, di fare delle cose. È stato pensato di inserire questo oggetto che è stato preso in presto al Museo Chiossone perché è una scatola del 1800, una scatola di scrittura giapponese e quindi non solo per la bellezza dell'oggetto ma perché è un meccanismo, un modo di scrivere e si vede come funzionava questo oggetto. La mostra di Gintrass di Zapetris continua il programma espositivo del museo che si sta focalizzando su portare talenti internazionali emergenti a Genova. Tutte le mostre nascono per il museo. In questo caso il museo ha prodotto l'ultimo nuovo film di Gintrass filmato in Italia e a New York, Transit. E' un modo di anche stimolare i giovani su cosa vuol dire la creatività e come queste immagini contemporanee vivono. La mostra in qualche modo racconta come l'astrazione faccia parte della nostra vita quotidiana e in questo modo presenta dei loghi astratti e riconoscibili per dire che non è vero che l'astrazione fa parte del mondo dell'arte ma in qualche modo fa parte della vita di tutti e tutti sappiamo riconoscere, vedere e leggere le forme astratte. Il museo resta aperto tutta l'estate, la mostra durerà fino ai primi di settembre. Al museo inoltre dal 5 al 25 luglio c'è il Genova Master Program, un master per giovani artisti italiani e internazionali che sono venuti apposta a stare a Genova 20 giorni e che il giovedì 25 presenteranno in qualche modo i risultati del loro lavoro con una serata aperta al museo, al pubblico. E sempre tra fine luglio e primi di agosto il museo presenterà delle serate vista mare in cui arte contemporanea, musiche e proiezioni saranno offerte dalla Clinica Montallegro alla città di Genova e ai visitatori del museo.